Si sposta nelle aule del TAR della Sardegna lo scontro tra ATS e operatori sanitari che non intendono sottoporsi alla vaccinazione. Infatti sono 173 i medici, gli infermieri, gli osso in servizio nelle strutture sanitarie della Sardegna che hanno presentato il ricorso al TAR contro l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione che è stato introdotto dal Consiglio dei Ministri col Decreto Legge numero 44 del 1 aprile 2021. L'istanza è stata depositata il 18 agosto presso la prima sezione del Tribunale Amministrativo della Sardegna. Non si tratta del primo caso a livello nazionale dal momento che ricorsi simili sono stati già presentati in altre regioni dalla Liguria alla Lombardia, passando per il Piemonte alla Toscana. In Sardegna i sanitari che non hanno effettuato la vaccinazione, che è obbligatoria, sono circa 500. La TS ha già avviato l'ITAR per la sospensione al servizio e ha inviato le lettere in cui si inviate ai lavoratori di accedere negli ospedali o negli studi medici convenzionati per poter esercitare la propria professione. Nel contempo si è proceduto alla sospensione e all'erogazione dello stipendio. L'udienza del TAR potrebbe tenersi a metà settembre, una battaglia giudiziaria che interviene nel momento cruciale della campagna vaccinale nell'isola e con la regione investita in pieno dalla quarta ondata dell'epidemia, con la Sardegna che in base al tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid rischia di dover passare in zona gialla già dai primi di settembre.